Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono VivoLibero e vi do il benvenuto. Oggi ragazzi siamo su Farming Simulator 2019. Allora, l'ultima volta che ci siamo visti, avevamo messo giù le nostre fabbricucce di carne. E quella per la faronzola, la faronzola, onzola, onzola. Ma oggi ragazzi avevamo venduto anche le uova, praticamente, se vi ricordate avevamo tolto anche le fabbriche di uova. Allora, prima di tutto ragazzi andiamo un attimo qua e andiamo a venderci immediatamente. le nostre gabbie delle uova che a noi non servono più. Quindi andiamo a cercarle dove le minchia sono. Eccolo qua. Una. Ok. Due. Ok. 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 E' un po' lentino, eh. Ok. E qua ci siamo ragazzi. Abbiamo venduto le nostre gabbie. Ma oggi ragazzi cosa andremo a fare? Intanto prima di tutto qua lasciamo per il momento così. Oggi ragazzi andremo a mettere giù la nostra fabbrica della pizza. Allora, io vi velocizzerò il tutto, ok? Io vi velocizzerò il tutto perché devo spianare, perché devo anche aggiustare un po' qua ragazzi, perché fa schifo. Fa veramente schifo da vedere. Quindi, vabbè, andremo poi ad aggiustare, aggiusterò, perché fa schifo da vedere. Ok. Andiamo a spianare. Quindi andiamo qua, andiamo esattamente qui, e ragazzi, io vi velocizzerò il tutto. Vi faccio un timelapse. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora... Scusate l'attimo, non ci sto capendo niente ragazzi. Allora, qua sponerà qualcosa, sponerà la pizza secondo me, e qua è dove dobbiamo mettere noi... ecco qua. Allora... Flour... Allora... 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 Allora...